e sono in viaggio verso il ristorante Dal Califfo di Montefiore di Recanati grandissima serata di Capodanno questa sera vi aspettiamo veramente in tanti con sottofondo Sofia e ho, e ho, com a due stelle, com a due stelle, e ho, e ho Vira Sofia, se innamorate giro, se innamorate giro Vira Sofia, se innamorate giro, se innamorate giro faccio gio, faccio gio, che poi stasera canteremo sicuramente vi aspettiamo a tutti, ciao!